Bene, benvenuti, proviamo a fare una stanzina con la gioconda da mettere in VRChat quindi apriamo il nostro Sweet Home 3D ci accertiamo di aver messo la modifica, vi ricordate, delle preferenze in modo tale lista ricercabile e a questo punto andiamo a costruire una piccola stanzina quindi andiamo sui muri, quindi andiamo da 0 clicchiamo e poi andiamo a 10 e poi andiamo ancora facciamo fino a qua e poi andiamo fino a 0 e poi andiamo sopra a chiudere una stanza invio quindi facciamo questa stanza qua, escape e poi la chiudiamo con le stanze doppio clic e andiamo a fare il colore a scegliere i colori del pavimento e dei muri quindi facciamo così doppio clic andiamo sul pavimento e ci mettiamo la texture del pavimento e ci mettiamo per esempio piastrelle rosse questo qui se non vado errato bisogna metterci 1000 adesso vediamo e poi sul pavimento dunque questo era il pavimento invece i muri li facciamo di mattonelle blu giusto per e qua proviamo a metterci anche questo e proviamo a vedere ecco vedete che abbiamo una un qualche cosa di interessante chiaramente poi mattonelle muri eccetera potete cambiare la scala adesso ho messo 1000 ma probabilmente bisogna mettere un valore leggermente diverso e andiamo adesso a metterci la gioconda che avete visto cerchiamo quadro quadro prendiamo il quadro ce lo mettiamo in una per esempio qua e il quadro lo facciamo un pochino grandino grandino quindi non 50 centimetri ma facciamo ad esempio 150 per 200 ok vediamo che è un pochino troppo alto quindi andiamo sicuramente qui e una volta che il mouse è diventato di quel colore lo abbassiamo ok ed eventualmente lo mettiamo qua dopodichè abbiamo detto il quadro ci mettiamo la gioconda quindi prendiamo il quadro della gioconda andiamo quadro doppio clic andiamo sui materiali modifica picture e sulla picture facciamo ok no texture la facciamo un pochino lucido texture vediamo se ce l'abbiamo già una gioconda qua forse c'è ma comunque noi la reimportiamo importa prendiamo questa immagine ce la importiamo continua fine ok ora vedete che abbiamo messo la gioconda giusta quindi avendo messo la gioconda giusta possiamo mettere ancora un'indicazione visuale la gioconda o monnalisa quindi basta andare qua e aggiungiamo un allora non ci visualizza il f9 scusate bisognava cliccare qua decidere dove metterlo qua e dire ecco posiziono qua monnalisa diciamo visibile in vista 3d ok e poi gli mettiamo un colore che mettiamo per esempio un giallo o bianco perché poi diventa con lo sfondo nero e qui c'è anche un colore boh facciamo ok e poi la mettiamo verticale clicchiamo e vedete che ce l'ha fatta qua la facciamo un pochino più grossa quindi dobbiamo selezionarla per selezionarla mettiamo la freccia monnalisa le facciamo 70 ok vedete che è venuta parecchio più più interessante la mettiamo un po' più attaccata al muro ok e poi dobbiamo alzarla quindi la alziamo monnalisa e poi eventualmente gli potete anche cambiare il font e qui abbiamo questo font un pochino più interessante a questo punto direi che abbiamo fatto tutto quindi facciamo salva con nome ce la salviamo in una cartella apposta quindi facciamo una cartella qui che chiameremo monnalisa salviamo ecco qui monnalisa e sempre dentro quella cartella esportiamo il nostro l'export in formato obj quindi esporto in formato obj sotto monnalisa obj salviamo esporta tutto quindi abbiamo esportato tutto ora sotto quella cartella che abbiamo detto che si chiama monnalisa quindi monnalisa troviamo qua andiamo in openpath e questa cartella vedete che ci sono un po' di cose noi andiamo in visualizza vediamo dettagli e le cose che vediamo sono il punto suite home3d e tutte le immaginine e l'obj e l'mtl ok ora quello che dobbiamo fare adesso è di importare il tutto su nel nostro caso sotto unity per poi importarlo su vrchat lo vediamo nel prossimo video